ciao da valentina bentornati a patchwork oggi faremo insieme un portagioielli in modo semplice e veloce andiamo per costruire il nostro portagioie possiamo prendere dei bastoncini da gelato oppure degli abbassalingua che possiamo trovare semplicemente in farmacia oppure dai pediatri che i pediatri utilizzano per visitare i nostri bambini prima di ogni cosa dobbiamo creare le basi per questo portagioie utilizzando ovviamente la nostra colla a caldo e fissare le estremità in questo modo lo stesso fare per quell'altro lato adesso è questo il frontale questo è quello finito frontale adesso andiamo a costruire la parte frontale dove poi appoggeremo i nostri gioielli e mettere alla stessa distanza un bastoncino dall'altro affinché sia più uniforme questo è il nostro portagioie finito adesso passiamo a dipingerlo e ad abbellirlo io ho scelto il giallo e l'arancione perché sono i miei colori preferiti però voi potete dipingerlo come come più vi piace questo è il nostro portagioielli finito avete visto è semplice è facile da costruire provateci anche voi vi aspetto alla prossima puntata di patchwork ciao da valentina